Eccoci qua con Filippo Zana. Ciao Filippo, come stai innanzitutto? Ciao, ma dai, tutto bene. È arrivato il giro che penso che tutto l'anno lo prepariamo, quindi spero di essere pronto. Ora stiamo bene. Sicuramente ci sono subito due tappe molto impegnative, quindi vedremo. Punti alla classifica scalatori o una tappa in particolare? Hai degli obiettivi specifici per questo giro? Ma dai, per ora cerchiamo di far bene qualche tappa, però cercheremo sicuramente di supportare la squadra e vedremo un attimo subito come si metterà già qua le prime tappe che sono subito impegnative. Capiremo un attimo come sarà questo giro, insomma. Perfetto, grazie.